Continua l'anomala ondata di interferenze satellitari che sta colpendo l'emisfero occidentale in questi giorni. Preferisco rischiare la vita che non vederti tornare. Il vincitore del contest! Addio, fattuti, fusi, verdi e Cirovierro! Sono stato rapito dagli alieni! Non si parla. La città non ce l'ha portata. Preparate le astronavi. L'invasione della Terra inizio! L'invasione della Terra inizio!